Bellissimo questo messaggio che già ci dà un po' la risposta. Cosa succede quando ci sentiamo deboli, quando crediamo che non siamo abbastanza buoni, forti, anche per servire il Signore, non solo per superare gli ostacoli nelle nostre vite, ma per servire il Signore. Chi si sente giusto, adatto, forte, in gamba e tutti abbiamo delle debolezze, ma il Signore ci rialza, lui ci rialza, lui ci rialza, solo guardare a lui, come Giuseppe ha detto nel sonno, solo guarda a Gesù e tutte le cose andranno bene. Questa canzone mi ricorda anche il messaggio di Elisabetta ieri durante la diretta, Elisabetta ha detto, tu credi che non riuscirai mai ad essere meglio di quello che sei, ma lascia Gesù agire dentro di te e cambierai, vedrai che anche tu stesso sarai sorpreso dei cambiamenti che succedono dentro di te, quando Gesù agisce, ma lascialo agire con umiltà. Giuseppe, qual è il messaggio che il Signore ti ha dato per noi? È un messaggio che diciamo ho bisogno io, non è solo un messaggio per i fratelli, io sono il primo fratello che ne ho bisogno, ho preso degli appunti e adesso voglio passarveli. Ok. È un messaggio che parla quando ti senti debole e allora sei forte, quando ti senti debole e allora che sei forte. Ma non ti senti forte? E non ti senti forte no, però lì in quel momento di debolezza quando nel mondo quando uno è abbattuto allora pensa al suicidio, pensa al divorzio, pensa alla violenza, pensa a rubare, pensa a mentire, a imbrogliare. Quello è il momento magico che il cristiano può guardare a Gesù, guarda Gesù magari i giovani, i giovani magari ci hanno fidanzato che li ha abbandonati, una fidanzata che lo ha tradito, un uomo, una donna. E in quel momento avevi fatto un idolo del fidanzato, un idolo della donna e quella donna si rivela, quella donna che è un uomo è un peccatore, una peccatrice, come te, peggio di te e il tuo idolo è distrutto. Allora l'oggetto dell'amore diventa oggetto di odio e allora ti riempi di odio. Insomma il cristiano, il credente, in quel momento di crisi, il vero credente, guarda Gesù e Gesù nel momento di crisi, crocifisso, frustato, torturato, ha guardato al padre. E lì è la vittoria. Secondo Corinzi 12, 8 a 10. Secondo Corinzi 12, 8 a 10. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustia per l'amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Alleluia, alleluia, alleluia. Allora Gesù gli ha detto a Paolo che voleva un aiuto. Mi aiuti? C'ho questa spina nella carne. E Gesù gli ha risposto, no. Tre volte ha pregato. E quando Paolo pregava, insomma, era uno, non è che gli mancava la fede. E Gesù gli ha detto, no, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Capisci? Il diavolo lo vinciamo con la potenza di Dio e con la nostra debolezza. Cioè noi siamo più potenti del diavolo nella sua massima potenza, nella nostra debolezza siamo più potenti del diavolo quando è potente. Incredibile, eh? Quindi adesso lasciamo perdere la falsa umiltà. umiltà, tipo io non sono niente, Dio è grande, io sono un buon a nulla, lasciamo che Dio faccia tutto, specialmente quando io devo fare sacrificio, lavorare duro, lasciare che Dio faccia tutto. Comunque in ogni caso Dio mi ama, insomma Dio mi ama, Dio vuole che sono felice, Vangelo di prosperità, mi devo guadere alla vita, Dio mi ama. Guarda, Filippesi 4.13, va bene, perché se noi vogliamo possiamo. Filippesi 4.13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non c'è una scusa per dire io non sono capace, io non sono capace, io non posso, io, no, noi possiamo qualunque cosa. E quando non riusciamo possiamo morire come martiri e allora saremo più che vincitori. Come fai ad essere più vincitore di un vincitore, martire? Cioè, morendo per Gesù, come Gesù è morto per noi, siamo più che vincitori. Che Gesù ha vinto la morte morendo. Quindi dobbiamo cancellare il nostro dizionario, la voce che dice io non posso, cancellarlo. Vi sono cose che può fare solo Dio, ma vi sono cose che invece Dio ha comandato a noi di fare. E' per questo che lui ci ha unti, ci ha diplomati, qualificati, ci ha benedetto, ci ha fortificati nello Spirito Santo, va bene? E' perché siamo stati chiamati alla salvezza. Se siamo chiamati alla salvezza siamo chiamati anche, infatti comandati, di seguire Gesù con tutto il cuore. Lo facciamo con mezzo cuore, l'altro mezzo cuore appartiene al mondo. Come dire, signor diavolo, prendi mezzo cuore, mezza mente, mezzo amore, mezzo tutto e il diavolo dice ok. Allora arrivano depressioni, scoraggiamenti, tristezze, abbattimenti. Tutti quanti siamo chiamati alla salvezza. Siamo però anche chiamati ad essere dei piccoli Gesù. Non siamo chiamati solamente a mangiare il gelato, siamo comandati anche a volte a preparare il gelatino. Non siamo chiamati solo al Vangelo di prosperità, siamo chiamati anche alla sofferenza, anche alla croce, anche al Calvario. Quando è necessario? Non andiamo a cercare le sofferenze, come fanno certe religiose che mettono il sale nel letto per soffrire di più mentre dormono. Poveri fessacchiotti, capirai cosa guadagna Dio perché tu soffri? Niente. E chi guadagna? Il diavolo si diverte che tu sei fesso, che siamo fessi, non voglio difendere da nessuno. C'è una religione che ci sono le foto. In Spagna vedi i cristiani che si frustano sulla schiena perché loro devono soffrire per Gesù. Le Filippine ci sono quelle che si fanno il crocefiggio per dieci minuti perché amano Dio così. Questa è una stolteria. Non esiste nella Bibbia, sono stregonerie, sono paganerie. Infatti Dio dice anche nel Vecchio Testamento, non amo i vostri sacrifici ma è l'ubbidienza che voglio da voi. Non contano questi sacrifici. Non voglio sacrificio, cioè religione, ma voglio ubbidienza. Come Samuele, il profeta, ha detto a Saúl in primo Samuele 15. È lì che ha perso il regno. Primo Samuele 15, 23-24, Samuele dice a Saúl, non voglio ubbidienza, non voglio sacrificio, cioè sacrificio di olocausti. Nel nostro caso qual è il sacrificio di pregare, andare in chiesa, sedersi sulla panca, ripetere lunghe preghiere come farisei. Il Signore non frega niente di questo. Sì, pregare sì, ma non ripetere però. Non ripetizione, come dice Matteo 6, come fanno i pagani. Allora, qual è l'annuncio, andiamo a Matteo 7, Matteo 7 andiamo, Matteo 7 e Matteo 25 andiamo. Qui parla di, l'annuncio che noi ascolteremo qua, ci sono due annunci che Gesù farà, due annunci. Qual è l'annuncio che noi vorremmo ascoltare da Dio? Allora, il primo è Matteo 7, 22 e 23, lo leggiamo e prendiamo a Matteo 25. Matteo 7, 22 e 23. Questo è un annuncio che Gesù farà. Andiamo. Matteo 7, 22 e 23. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, 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 non abbiamo noi profetizzato il nome tuo? Abbiamo profetizzato, Gesù. Ehi, scusa, tu non sai che sono io. E in nome tuo ho cacciato demone. Caspita, non stiamo mica parlando di cristiani così, qui cristiani speciali cacciano demone. E fatto in nome tuo molte opere potenti. La parola greca qui è dunamis, è la stessa parola usata per i miracoli di Gesù. Signore, abbiamo fatto i miracoli uguali che tu hai fatto. Lo sai che siamo noi? Signore, poche sono le chiese che c'è gente che fa tutte queste cose. Poche, poche chiese. Ci hanno profeti, operatori di miracoli, che cacciano i demoni. Allora Gesù cosa gli risponde? Il 23. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Quindi il fatto che apparteniamo alla chiesa perfetta, che fa miracoli, non significa niente. Che c'è la fila, essere guariti, tocco magico, 100 guariti. Alza la mano, 50 persone cadono per terra. C'è da invidiare qui. E Gesù dice, non vi conosco neanche. Allontanatevi da malfattori, operatori di iniquità. Quindi questi facevano una cosa giusta, ma tralasciavano una cosa più giusta. Qual è questa qui? È una scoperta che ciascuno di noi deve fare. Questo è un annuncio che Dio farà. Però cerchiamo che non sia quell'annuncio che noi ascolteremo. Cerchiamo che magari sia l'annuncio, per esempio, Matteo 25, 23. Matteo 25, 23. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Questo è un annuncio che vorremmo ascoltare. Sì, sì, sì. Quindi non ci nascondiamo. Io sono un profeta. Sono un operatore di miracoli. Io guarisco le persone due alla volta. Quattro, cinque, dieci e cinquanta alla volta. Io. Piacere. Qui ci ho dato da visita. Ci ho scritto qua. Profeta, guarito. Sì, questo dobbiamo fare. Sì, ma attenzione. Dobbiamo vedere anche cosa Dio sta cercando di dirci. D'accordo? C'è un altro annuncio che ci piacerebbe ascoltare. Continua a leggere Matteo 25 al 34. Allora il re dirà a quelli della sua destra. Poi andiamo a Daniele 12 per così. Venite voi, i benedetti del padre mio. Ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Questo è un annuncio che vogliamo ascoltare. Amen. Non è che dici, ah, hai cacciato demoni, hai profetizzato. È sbagliato. No, è giusto. Dobbiamo profetizzare. Certo vogliamo cacciare i demoni, ma non crediamo che perché ci andiamo a cacciare 50 demoni, 50 benedizioni in cielo. Pronto, grazie. Io ho cacciato 200 demoni. Ah, 200 demoni, allora 200 benediti. Non è così che funziona la storia. Gesù guarda il cuore. Allora, venite benedetti perché ereditate il regno. E poi lo spiega, perché avete ubbidito. Daniele 12,3. Daniele 12,3. Sì. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Questa è la chiamata che vogliamo ascoltare. Daniele 12,3, poi andiamo a Giovanni 20,21. Come qui. C'è delle scritture che il Signore mi ha dato, sono delle chiamate, sono degli annunci che il Signore farà, prepariamoci a poter ascoltare gli annunci giusti, quelli corretti. Mano. Non crediamo a dare inizio e a dire, Signore, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Hai ubbidito? Eh, ma io qua, io guardo, cioè in una guerra, tu non vai da generale, generale, una medaglia d'oro qui, guarda, in quest'angolo della mia camicia, una medaglia d'oro, perfetto, perché io ho tirato 50 bombe o ho vinto 10 battaglie. Va bene, magari il generale dice, ma io avevo bisogno di te come gente segreto, avevo bisogno di te come pilota di aereo, sì, ma io, no, ma però nessuno ti ha chiesto di fare quello. Cioè, l'ubbidienza, leggere bene Primo Samuele, capitolo 15, studiarlo bene, Saul, Dio gli dice, vai, estermi tutti i nemici, lui invece di esterminare tutti, ha salvato il re, ha salvato un po' di animali, farsi la griglia, e Dio gli ha detto, no, devi uccidere tutto, che è tutta cosa maledetta. E Saul dice, no, no, Dio non capisce, Dio non capisce che qui questi figli, guarda che belli agnelli, belle mucche da fare, se le ammazziamo a tre giorni sono tutte marcite, invece le tiriamo in vita, un arrosto al giorno, per glorificare Dio, si capisce, tutto al valore di Dio, ma è logico. Ha andato a Samuele, è andato a Samuele, e gli ha detto, no, Dio non vuole sacrifici religiosi, vuole, vuole l'ubbidienza. Come se mia moglie mi dice, guarda, ti ho preparato una spaghetti con la pommarola in coppa. con il basilico sopra, guarda maritino, grazie moglie, è un ottimo spaghetti, ma ti avevo chiesto però, invece di scrivere quella lettera, quella pecorella che sta in ferma. Sì, ma marito, ti ho fatto la spaghetti, come tu sempre dici, con le tue battute, se grazie spaghetti, sarò felice di mangiarla, ma ti avevo chiesto di scrivere una pecorella. Eh, ma dai, su, dai, ho fatto qualcosa di buono, no? Una moglie così, o un marito così, non vale niente. Perché fanno cosa buona, invece di fare la cosa giusta. Giusto? È stata una prova per Saul o no? Sì, 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 perché già aveva fallito, ha fallito in primo re 13, capitolo 13, aveva sbagliato già lì, Saul è già lì, era in Gere, e allora Dio l'ha messo alla prova al capitolo 15, prima Samuel 15, ripete la prova e fallisce di nuovo. In capítulo 15, again he was put to the test, but then he failed again. Ok. That means that God gave him a second chance, so there are second chances. Questo significa che Dio le ha dato una seconda opportunità, questo significa che ci sono seconde opportunità. A volte sì, certamente. Sometimes yes. Peter had a second chance when he denied Jesus and Jesus gave him a chance to repent, and he did. Pietro ha avuto una seconda opportunità quando lui era negato Gesù, però dopo lui si è pentito e Gesù l'ha dicevuto. Many times Jesus gives that second chance, man. Il Signore ci ha seconda opportunità tante volte. So, andiamo avanti qua. Allora, la chiamata di Dio, va bene, è sempre in base alla sua volontà, va bene, a quello che lui ci chiede di obbedire, va bene, in Giovanni 20-21, va bene, che abbiamo letto prima, io te l'ho detto in Italia, John vuole leggerlo lui. Allora, Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Very good, very good, very good. bene, vedo che il suo italiano migliora, John. Allora, guarda, Gesù ci ha una volontà, non è che, sì, puoi cacciare i demoni, fare i miracoli, però c'è una volontà. Magari c'è una pecorella che devi lasciar perdere 99 che danno offerte, prende a cercare una che magari devi pagarlo tu. Ogni missionario sa che questa, molte volte, devi fare questo. Lasciare perdere una convenienza per andare a sacrificarti, va bene. quindi la chiamata di Dio è per ciascuno di noi, però ciascuno nel suo ambito, nelle sue possibilità. Il Signore non ci chiederà mai di fare una cosa troppo alta per noi, lui ci chiede, ci dice, seguimi, ti farò pescatore di uomini, cioè il Signore ci chiederà di fare quello che possiamo, mai quello che non possiamo. Ti chiede di amare la moglie, ti chiede di amare il marito, di amare il fratello, di amare la pecorella, di dare il Vangelo, è troppo? È solamente la superbia, l'orgoglio, l'esubbidienza, l'egoismo che ci ferma. Dio non ci chiederà mai di fare una cosa troppo difficile, va bene? Andiamo, ancora un paio di scritture, Giovanni XV e Giovanni VIII. Can I read it? Yeah, I can read one, just a seconda. Allora, John insiste a leggere la scrittura, va bene. Allora, il compito di Gesù è quello di insegnarci, questo è il compito, il nostro compito è di imparare, ascoltare, ubbidire, portare frutti, frutti, John, Giovanni XV, VIII. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Discepoli, very good. Giovanni VIII, 131, Gesù allora disse a quei discepoli che avevano creduto in Lui, se perseverate nella mia parola sarete veramente i miei discepoli. Allora, perseverare. Amen. grazie Giovanni, ottimo, il tuo italiano migliora, grazie Gesù, che i bambini crescono nel Signore e siamo qui innanzitutto a farli crescere loro. Dimmi. voglio dire, quando vi ho conosciuti e venivo dal mondo e nel mondo sempre ti senti che non sei mai buono come gli altri, che sei sempre inferiore, ti senti piccolo, ti senti buono a nulla. E quando vi ho conosciuti non mi sentivo capace di essere discepola. non credevo che io potrei mai fare il lavoro che fate voi per Gesù. Gesù mai sceglierebbe qualcuno come me per essere discepola, chi sono io. E poi, più vi incontravo e stavo con voi e evangelizzavo con voi, ho capito che non siete voi che siete grandi, anche se vi amo tanto, non voglio offendervi. Non siete voi grandi, ma è Gesù in voi. Offendi pure. È l'amore di Gesù in voi che è grande. Voi siete uomini normali come me? Common people? Gente comune. Gente comune, però nel vostro cuore c'è un amore non comune per Gesù, è un amore più grande. È quello che fa la differenza. Il tuo amore per Gesù ti fa speciale, non la tua carne, la tua intelligenza, non importa neanche quanto sei intelligente, ma l'amore che hai nel cuore per Gesù, quella fa la differenza. Tutti noi che siamo gente comune possiamo fare cose speciali e cose grandi per Gesù, perché è lui in noi che opera. È la sua grandezza. Anche se noi siamo deboli, 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 ogni giorno deboli, lui è forte in noi. Per questo non dobbiamo mai scoraggiarci. A me è bello questo pensiero. Cioè questo vuol dire, cioè Angela vuol dire, che c'è speranza per tutti. nessuno deve sentirsi più debole, più sfortunato, più disgraziato. Cioè io, se andate in giro, nell'internet, i siti cristiani, vedete quello che va a evangelizzare sulla sedia a rotelle. c'è uno, c'è un serbo che non ha braccio, non ha gambe ed è uno dei più grandi predicatori che ci sono. Super, super incoraggiante. lui quando ha scoperto che era diverso degli altri bambini, dieci anni, si è buttato in una piscina per suicidarsi. Però Dio non gliel'ha permesso. E adesso è diventato uno dei predicatori più incoraggianti, più belli, più in gamba, più positivi che ci sono al mondo e è un piacere ascoltarlo. E lo vedi, lo mettono nel suo parco e lo trasportano lì. E lì, senza gambe e senza braccia. Nick Wojcic. E è arrivato a una certa età, non so, 25 anni, non lo so quanto aveva, 30 anni e Dio gli ha dato una moglie. Una donna bellissima, proprio sembra un'attrice di Hollywood, super bella, capito? E adesso ci hanno tre figli, tre o quattro figli. Tre o quattro figli ci hanno. Cioè, capito? Chi sono io per dire no, non posso, troppo difficile per me. Tu, fratello, puoi camminare sulle acque. Tu puoi far risuscitare i morti. Tu puoi amare quella moglie, quel marito, quella sorella, quel fratello, quelle pecore. Tu puoi. Hai in te Gesù, hai Gesù Cristo. Hai la potenza di Gesù. hai lo Spirito Santo. Tu puoi ogni cosa in Cristo che ti fortifica. L'unica cosa che, l'unico ostacolo che hai, fratello, è che tu credi che ci sono ostacoli. Tu puoi imporre le mani agli ammalati. Tu puoi guarirli. tu puoi. Questo a me è successo un po' di mesi fa. Io dicevo, no, io, è che ero più per evangelizzare come amicizie, questo. io dicevo, no, io non sono capace di evangelizzare così a persone sconosciute, no? Invece, questo Dio, io dico, il Signore l'ha spezzato quando una mattina eravamo usciti a tutta un'altra cosa, io e Andrea, e io gli dicevo, Andrea, oggi mi sento molto bene spiritualmente. è qualcosa di speciale agli altri giorni. E così del nulla, passavamo, siamo usciti da una parte, siamo passati nella piazza, la piazza dell'Arme, e io dicevo, guarda Andrea, qua è stata la mia prima evangelizzazione con Tim, e quando sono arrivata qua, l'ho detto qua, ci rinnoviamo ogni tanto per evangelizzare, beh, ops, che c'era un ragazzo, un ragazzotto, seduto nella panchina, e così, cioè, io dico così, perché quando ti senti spiritualmente che il Signore ti spinge a parlare con qualcuno, lo fai. Allora, io andai a parlare con questo ragazzo, e grazie al Signore mi ha permesso di pregare per lui, lui era, si vedeva che era una pegorella, e io gli disse, vedi Andrea, così facevamo insieme, o facciamo quando ci incontriamo con Giuseppe, i fratelli, anche gli altri fratelli, io non pensavo, ho scoperto proprio adesso che sono capace di parlare con qualcuno sconosciuto, e poi un uomo dice, oh, non, cioè, è difficile evangelizzare, cioè, almeno io dico, è difficile evangelizzare una donna a un uomo, perché ti senti un po' in disagio, almeno io mi sono sentita un po' in disagio, però come che quel giorno non ho sentito nessun disagio, abbiamo parlato con questo ragazzo, è stato molto bello, e lei, io gli dice, mentre uno evangelizza l'altro, deve orare nello spirito, così impari, anche quando siamo insieme, mi capita di evangelizzare qualcuno, tu a parte lì insieme, e in silenzio prega il Signore, sì, Diana, sì, è che tu sei alzata oggi elettrica, gloria al Signore, amè, amè, grazie a Gesù, è proprio così, gloria al Signore, è lo Spirito Santo, non sei tu, è lo Spirito Santo, grazie a Gesù, grazie al Signore, amè, amè, e quando cominci a evangelizzare, cioè, sei, cioè, ci sono cose che, cose basiche da imparare, poi quando vedi lo Spirito Santo che comincia a muoversi, lo Spirito Santo comincia a, fare miracoli, la gente comincia a essere, salvarsi, riceve Gesù, comincia, la gente comincia a essere guarita, e allora, vedi Gesù in azione, poi quando Gesù comincia a usarti, che un'anima si salva, una persona, riceve Gesù, una persona guarisce, ti imponi le mani, c'è stato un predicatore, ha detto, io ho pregato più di mille volte per gli ammalati, mai nessuno è guarito, dopo, e li contava, dopo, e dopo circa mille persone che ho pregato, ho cominciato a vedere miracoli, dopo miracoli, dopo miracoli, Edison, Edison, quello che ha inventato la lampadina, tutti sanno che la lampadina, la prima lampadina che ha funzionato è stata dopo più di mille esperimenti, quindi fratelli, la Bibbia dice, il giusto cade sette volte e si rialza, quindi se c'hai 99 anni, adesso è stato un disastro, Abramo a 99 anni era un disastro, a 99 anni ancora non era riuscito ad avere un figlio, a 99 anni, e cioè, il figlio promesso, aveva avuto, naturalmente, Ismaele, ma non era quello promesso, tra Sosara, e a 99 anni, a 100 anni è arrivato il figlio, grazie Signore. Guarda, Mosè guidava Israele nel deserto, perché dobbiamo imparare qui, Israele nel deserto, imparare a perseverare, imparare a essere federe, imparare a portare i frutti, dobbiamo imparare a perseverare, perseverare è una parola da meditare, Gesù dice in Giovanni 8,31, se persevererete nella mia parola, allora sarete i miei discepoli, prima non lo siete, non siete i miei discepoli, dovete perseverare, cioè non è solo ripetere una preghiera stupida, Gesù entra nel mio cuore, dammi la vita eterna, sono cristiano, oh, 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 no, è una preghiera stupida questa, fino a quando non arrivano i frutti, è una preghiera, magari se non stupida, se non buona nulla, che non serve, la chiamo sciocca perché è una preghiera imbroglione, che imbroglia la gente, tutti vengono qui davanti al pulpito, alzi la mano, chi vuole dare il cuore a Gesù, niente di male, potete farlo, l'ho fatto anch'io, ma se non vengono i frutti, è una preghiera sciocca, se non ci sono i frutti, è una preghiera che la gente ha perso la fede, io un anno fa, un anno fa, ho fatto la preghiera per ricevere Gesù, lo Spirito Santo, ho dato il mio cuore, in un anno non è successo niente, ho perso la fede, adesso sono diventato, la mia chiesa, adesso sono i bordelli, mai dire a una persona che prega per ricevere il Signore, adesso sei salvo, adesso sei cristiano, battezzato nell'acqua, acqua speciale, minerale, della mia chiesa, mai dire, adesso sei battezzato, adesso sei, a parte che battezzano all'acqua secondario, non è neanche necessario, è una cosa facoltativa, è come la circoncisione, non è proibito la circoncisione, è una cosa anche medica, ma non è che ti dà un millimetro di spiritualità di più, va bene, infatti Paolo ha detto in 1 Corinti 1,17, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ciao, fino alla storia, quello era solo fino alla Pentecoste, che ci entra nella zucca, va bene, ho detto, battezzato nell'acqua, fatelo, ma poi mentre è battezzato nell'acqua, è detto a questo, però non ti dà niente, se non dà il tuo cuore a Gesù, ci siamo? E' lo Spirito Santo il battesimo, che i miracoli si fanno non con l'acqua, ma con lo Spirito Santo, ci siamo? Del quale, battesimo nello Spirito Santo, l'acqua era un simbolo, Mosè, cosa faceva Mosè? Mosè guidava Israele nel deserto, il dovere di Israele qual era? Di seguirlo, cosa che essi fecero non fecero, no, sì o no, no, no e no, no e no, non sia no, no e a volte no e a volte no, capito? Più o meno, sì. Capito? E poi Dio, misericordia, salvò quelli sotto vent'anni, misericordia, e quindi, la disobbedienza di Israele li guidò alla morte e morirono nel deserto, tranne per misericordia quelli sotto vent'anni perché Mosè gliel'ha chiesto, però, diciamo, sono morti tutti i mormoratori, adesso, leggendo i loro sbagli, i loro peccati, scuotiamo la testa, scuotiamo la, diciamo, li critichiamo, oh Israele, uh, che mormoratori, tutti insieme, uh, ma la maggior parte della Chiesa mondiale sta ripetendo gli stessi peccati, le stesse mormorazioni, salvo chi si pente e cambia le sue vie. Questa Chiesa mondiale, stragrande maggioranza, farà la stessa fine di Israele nel deserto, moriranno nel deserto e nel tempo della fine non saranno morsi le serpenti, ma molti di loro riceveranno il marchio della bestia, e i cristiani, i credenti, i protestanti, i cattolici, i rifiutati, riceveranno il marchio della bestia se non hanno la vera salvezza di Gesù e la maggioranza dei circa 2-3 miliardi, 2-3 miliardi di cristiani oggi sono falsi, falsi, va bene, e moriranno come il deserto, moriranno non nel deserto del Sinai, ma moriranno nel deserto dell'anticristo nel deserto che già la chiesa mondiale si trova nel deserto, quale deserto si trova oggi la chiesa mondiale, qualcuno lo sa? Sì, apostasia, apostasia, bravissima, carne e sangue non ti ha mostrato queste cose, mio padre che è nel cielo, io ti benedica, l'apostasia, e la chiesa mondiale si trova nel deserto sbagliato, c'è anche un deserto giusto, i deserti sono due, c'è un altro deserto, mi sembri un testa mattina, Dora, qual è l'altro deserto? Il deserto delle prove? Il deserto? Dammi una scrittura. Di Apocalisse 12? Sì, verso? Non mi ricordo il verso, però Apocalisse 12, va a 14, 12, 14, lo leggiamo? Sì. Ma alla donna furono date le due ali delle grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo lontana dalla presenza del serpente. I deserti Apocalisse 12, 14. I deserti sono due, uno il deserto dell'apostasia dove la chiesa disobbediente, cattolica, evangelica, geova, mormonica, tutti, oggi la stragrande maggioranza dico sono, anche i mormoni, i mormoni vanno a evangelizzare due anni, le dottrine non le conosco bene, alcune sembrano un po' sgangherate, comunque due anni non è niente, dai il tuo cuore a Gesù finché muore, non è il servizio di elevo obbligatorio, il missionario va per sempre, fino a non c'è la pensione per il missionario, io non voglio la pensione, voglio morire sul campo di battaglia con gli stivali indossati, mentre sparo con il mitragliatore bazooka e cannoncini spirituali al diavolo, ai demoni, tutti i giorni gli sparo, va bene? non c'è pensione, che pensione? Quindi fratelli che sperate di vivere alle spalle dei governi, non vogliamo i soldi di Sodoma, dei governi, di Ponzio Pilato, di Cesare Augusto, di Matteo Renzi, della Merkel, va bene, se te li danno prendili, ma spendili per il Vangelo, non per costruire la tomba al monumentale cimitero di Milano, bella tomba, lì, va bene? Va bene, e se il governo non veda niente, non andate lì a baciargli i piedi che vi dia la pensione, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, anche con una sedia a rotelle, anche col bastoncino, il bastone per appoggiarti, se non puoi camminare, fai come faceva Dora che è stata a sette anni con la spina drossale rotta, che poteva stare in piedi solo mezz'ora al giorno di una benedica, andavo con l'autobus a evangelizzare e si portava alla sedia ad ora per sette anni. Bene. Va bene, avrei potuto comprargli una sedia a rotelle e sarebbe stata una benedizione per spostarla da una stanza all'altra, il pensiero mi ha attraversato di prendere una sedia a rotelle, però Dio mi ha detto no, perché sennò diventa uno spirito, sennò lei comincia a credere che è ammalata e dopo sette anni mi dice Gesù mi ha detto che sono guarita e invece non era ancora guarita. Sei guarita dopo quanti giorni? Sette giorni. Dopo sette giorni è guarita, sette giorni di prova. Ho andato dal dottore al sistema ti mancavano? Avevo tre ernie nella spina drossale. Tre ernie nella spina drossale. Ho andato dal dottore per un mese e quasi l'ho rovinata da tutto, da alto, alto. ed è guarita meravigliosamente adesso salta grazie Gesù grazie signora porta valigie e tutto va in cucina va ad evangelizzare senza sedia ogni tanto fa anche delle lasagne ti tira sulla teglia parte ti aiuta? No, porto io ti dico guarda è diventata forte più forte di me va bene gloria a Dio va bene però sette giorni senza guarire e sette anni stamattina abbiamo pregato per te Dianetta quanto tempo senza guarire? mezz'ora un quarto d'ora venti minuti? No è mezz'ora un'oretta andata di ritorno per prendere altre cose già quando sono uscita da qua gli ho detto Andrea guarda mi si sta sgonfiando la pancia e le ho fatto vedere dopo quando sono sono ritornata gli ho detto è finito grazie Gesù quindi signora anche anche un pochino anche ti ha benedetto che hai ricevuto oggi ci hai ricevuto come angeli di Dio ci hai aperto la casa e la benedizione del signore è entrata oggi qui anche perché il tuo cuore è bello infatti io gli disse Andrea io mento tanto Andrea perché per me lei è come una figlia abbiamo lavorato insieme lì l'evangelizzai e in realtà non è stata proprio un'evangelizzazione al lavoro che ho fatto io ho parlato io solo che lei entrava alla stanza dove facevo io la pasta c'era la Bibbia in audio c'era le canzoni in audio e allora lì lei ogni volta che entrava nella stanza non è che parlavo io e la parola è così si è convertita grazie signora amén 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 grazie signore grazie signore amén allora eravamo da Mosè che guidava Israele nel deserto va bene sì allora il dovere di Israele era di seguire Mosè giusto? sì va bene e non lo fecero e morirono adesso leggendo dai loro sbagli e peccati noi scuotiamo la testa però molta della Chiesa Mondiale stava dicendo stiamo ripetendo gli stessi sbagli stiamo mormorando stiamo dicendo ma noi siamo popoli di Dio ci meritiamo che Dio ci benedice ci meritiamo un rapimento prima della tribolazione non è mica ci meritiamo un marchio della bestia perché Dio ci ama e no ci meritiamo il rapimento prima della tribolazione in attesa del rapimento godiamoci la vita il Vangelo di prosperità perché Dio ci ama avanti con i soldi questa è la Chiesa di oggi ragazzi va bene comunque cerchiamo di non essere così impariamo da loro morire dobbiamo morire dobbiamo qualcuno annuncio dovete morire fratelli e forse anch'io dicevano andiamo con Gesù forse e forse anch'io disse nella barzalletta dobbiamo morire fratelli morire si deve ma quanto meglio se moriamo ubbidendo lodando benedicendo il Signore invece di morire mormorando scontenti pieni di lamenti e ribellioni morire dobbiamo eh ma però sai se mi uccide l'anticristo io non voglio soffrire ma guarda c'è gente paralizzata all'ospedale per anni in un sarcofago di gesso come sono conciati con pesi contrappesi tubi di qui tubi di là è una meraviglia scientifica come riescono a vivere ma per cortesia datemi uno zaino di Bibbia e me ne vado per le montagne così la tagliamo corto qui dottore quanto c'è da vivere ma guarda sì con tutte le meraviglie della tec con una macchina da mezzo milione di dollari quattro tubi nello stomaco due nelle orecchie quattro nel naso un contrappeso di qua e di là forse un anno ah sì per cortesia appena che prendo la stampera ho quattro stamperate in testa al diavolo la mia zaino di vangeli di volantini qualche cd quelli di Radiobraster sono gratuiti scaricate va bene lo zaino in spalla e ciao come disse pandita Amabai che gli è rimasta un anno uno o due anni di vivere fa il dottore ma il dottore fa puoi vivere un anno o due se stai tranquilla e lei dice se invece continua a lavorare dice non più di sei mesi ok era uno che contrabbandava Bibbie e sulla montagna e e questo lo zaino è andato a morire sulla montagna avanti e indietro contrabbandando che nazione era? India no? India Cina insomma la zona lì capito? allora fratelli cerchiamo di cerchiamo veramente prendiamo lo zaino delle Bibbie o volantini o quello che avete e andiamo a morire per Gesù va bene? Amen Salmo 95 le tristi parole dello Spirito di Dio 8 all'11 Salmo 95 8 all'11 tristi parole oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore come a Meriba come nel giorno di massa nel deserto quando i vostri padri mi tentarono mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere 40 anni ebbe in disgusto quella generazione e dissi è un popolo dal cuore traviato essi non conoscono le mie vie perciò giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo grazie signora ma come dice primo testo nel risese 5 voi fratelli non siete nelle tenebre siete figli di luce non dormiamo come dormono gli altri verso 6 primo testo nel risese 5 verso 6 ma vegliamo siamo sovri verso 7 quelli che dormono dormono nella notte ma noi siamo del giorno grazie signore non diamo la vinta al nemico pensando che non siamo all'altezza o che Dio in noi non può farcela va bene grazie signora grazie Gesù aiutaci signora alleluia alleluia vi ricordate Davide il più piccolo disprezzato della famiglia di Jesse il suo fratello maggiore lo insulta nel giorno del combattimento contro i filistei legge primo Samuele 16 suo padre non lo ritiene degno nemmeno di essere invitato al solenne sacrificio e al pasto con Samuele con il quale il grande profeta Samuele li stava li stava onorando e nel quale doveva scegliere Samuele doveva scegliere l'unto di Dio re di Israele neanche il padre invita Davide non era degno è più piccolo lì cura quattro pecore nel deserto il padre lo lascia insieme ai servi a curare le pecore ma è lui che Dio sceglie per diventare re di Israele tuo fratello sei disprezzato sei più piccolo nel tuo ambiente sei quello che ramazza le strade quello che pulisce i vetri quello che sei semafori a che so lavare i vetri uso degli esempi così a caso fratello gioisci gioisci fratello perché Davide faceva questo e Giuseppe è venduto schiavi dai fratelli ma che con la sua integrità e lealtà al suo padrone a Potifar diventa principe d'Egitto salva la sua famiglia con l'amore di Gesù che lui era un esempio in amore perdona i suoi fratelli omicidi indegni non li odia che lo hanno venduto schiavo o adesso vendo a voi schiavi no li perdona Dio l'ha permesso fin di bene la lista lunga tutti i piccoli nessuno gli apparenti handicappati gli inferiori che Dio ha usato in tutti i tempi per svergognare i grandi i savi gli intelligenti i diplomati i religiosi con quattro diplomi teologici incollati con lo scoccio sulla parete fratellini e sorelline siamo giunti alla fine va bene ho finito il messaggio questo possa questo messaggio che essere per voi e tutti noi di benedizione perché possiamo essere dei piccoli Gesù però voglio dire se oggi qualche membro della nostra chiesa si sentisse piccolo buona nulla rigettato maltrattato un fallito con il diavolo che ti dice che persino Dio ti ha abbandonato fai questo pensa a Giuseppe in prigione pensa a Maria Maddalena la peccatrice alla quale Gesù apparse aspettò che sua madre Maria se ne andasse va bene e aspettò perché venisse la peccatrice la ex peccatrice Maddalena pensa a Davide maltrattato dei suoi va bene erano peccatori come noi deboli come noi e anche peggio ma hanno corso la gara hanno mantenuto la fede hanno vinto la corona e hanno deciso di amare Dio in prigione nella sofferenza nelle persecuzioni ma abbiamo parlato nel passato di come Maria Maddalena era andata alla tomba invece di scoraggiarsi e dire oh il mio il mio grande salvatore eroe messia è morto quindi era tutto falso no era andata alla tomba per adorare un cadavere Maria Maddalena va alla tomba per adorare un morto un morto che era morto da tre giorni eppure era uno che aveva promesso la vita promesso la felicità la salvezza la vita eterna ma è tutto un tratto e invece viene processato come criminale giudicato colpevole viene giustiziato come il peggior criminale e ora tutto sembrava interrotto finito un fallimento Gesù è stato sconfitto su tutti i fronti i giudei i preti lo accusavano di essere indiavolato e avevano vinto sembrava avevano ragione il governo l'autorità gli davano ragione a questi farisei Giuda stesso gli aveva creduto e si era buttato fuori dalla dalla nave che sembrava affondata morta sei topi che si buttano dalle navi uno era Giuda invece Pietro era sbagliato era lì che piangeva e si pentiva ma però Maria Maddalena va adorare questo cadavere di questo fallito era così grande il suo amore per lui eppure era stato così criticato odiato maledetto dalle religioni ufficiali e questo amore non era in linea con l'amore di cui di solito la gente si amava però era amore vero l'amore vero non si può non si può falsificare e rimane vero anche davanti alla più grande sconfitta di tutte tutte le promesse che sembravano fallite tutto era inchiodato nel legno di quel cadavere e poi il resto lo conosciamo e poi il resto leggiamo Giovanni capitolo 20 vediamo che Maria Maddalena va alla tomba eccetera e cerca Gesù non lo trova va bene vanno lì alla tomba non lo trovano la tomba allora gli altri discepoli se ne tornano a casa Maria invece rimane lì vicino al sepolcro a piangere che neanche il cadavere poteva poteva vedere e mentre piangeva cosa fa guarda dentro al sepolcro va bene guarda dentro e vede due angeli vestiti di bianco la Bibbia ci dice che erano seduti uno al capo e l'altro ai piedi dalla tomba di Gesù va bene Giovanni 20 Giovanni 20 dal tutto capitolo leggetelo ci sono due angeli e un angelo che era lì seduto a fianco lì dove c'era stato il corpo di Gesù un angelo gli dice donna perché piangi e Maria gli dice hanno tolto il mio signore non so dove l'hanno deposto va bene poi cosa fa Maria si gira e vede Gesù in piedi non sapeva che era Gesù e Gesù gli dice perché piangi chi sta cercando e lei dice ma questo sarà l'ortolano dice il signore l'ho portato via dimmi dove l'hanno deposto e lo vado a prendere ecco qui a verso 16 Gesù le disse Maria lei si volta e gli dice Rabboni maestro e Gesù gli dice non trattenermi perché non sono ancora salito al padre ma va dei miei fratelli di loro io salgo al padre al padre mio al padre vostro al Dio mio e al Dio vostro ricordatevi che Dio è più grande Gesù è Dio parte della Trinità tutto nello spirito ma il padre è più grande non vi confondete Maria Maddalena va a annunciare i discepoli che ha visto il Signore che gli aveva dato queste cose e poi insomma capitolo 20 ti spiega questi dettagli Gesù appare grazie Signore e ora dolci fratelli che chiudiamo questo messaggio vi benediciamo fratelli vi amiamo ameno vi lasciamo nella sua grazia ameno grazie Gesù che la grazia del Signore la sua protezione la sua benedizione grazie Gesù la sua gioia sia sopra di voi ameno e con il vostro spirito ameno che vi benedica ameno e adesso faremo la comunione sì va bene avete preparato il pane e il vino avete preparato la carne e il sangue avanti con la carne avanti con il sangue grazie Signore grazie Signore Gesù per questo messaggio grazie Signore fa che appare il cuore di tanti Signore che possiamo nella debolezza essere forti che possiamo non aspettare la potenza di Sansone la saggezza la sapienza di Salomone la le vittorie di Davide o la leadership di Mosè ma che nella piccolezza come Giuseppe che è passato due anni in prigione per colpo di una donna malvagia che aveva mentito su di lui ameno ameno facciamo la comunione adesso Angela sì e preghiamo anche per i fratelli grazie a tutti